La sedia è l'ideale per chi è molto stanco e vuole riposare è giusta la poltrona per chi vuole far salotto e ghiacchierare è comoda l'amaca per restare all'aria aperta a dondolare fantastico il divano per stagli sdraiati avanti alla tv meraviglioso il prato per guardare il cielo e mettersi a sognare è bella anche la spiaggia per potersi addormentare in riva e il mare è ottimo il cuscino se sul morbido la testa vuoi posare e vengono i momenti che ti va a distrofondare in un sofà ma il materasso il materasso il materasso è il massimo che c'è il materasso il materasso sul materasso c'è la felicità io vengono i momenti che ti va a stare